Chi è Gianni Aman? Alcune curiosità sull'attore turco, è affascinato dalla cultura italiana. Gianni Aman sin da piccolo è un grande appassionato della cultura italiana. Ha studiato al liceo scientifico italiano di Istanbul. Gianni Aman è attore, modello e protagonista di diverse serie televisive di successo. Nasce a Istanbul l'8 novembre del 1989 sotto il segno dello scorpione. I suoi genitori sono turchi, ha un legame forte sia con il padre Guveni Aman che con sua madre Gulde Manim, mentre i nonni sono originari della Macedonia e dell'Albania. È figlio unico e grazie al talento, la Pille e i ruoli sempre più romantici. In poco tempo è riuscito a conquistare il pubblico italiano diventando a tutti gli effetti il principe azzurro dei tempi moderni. Gianni Aman è laureato in giurisprudenza. Il modello è sempre stato affascinato dalla cultura italiana sin da piccolo, ragion per cui ha studiato al liceo scientifico italiano di Istanbul, prima di laurearsi nel 2012. Infatti l'attore protagonista di Daydreamer, Leali del Sogno e M.R. Rong, è laureato al dipartimento di giurisprudenza dell'Università Ieditepe. Gianni Aman ha anche uno studio legale con due compagni dell'Università. Seppur attualmente si dedichi esclusivamente alla professione di attore, parla cinque lingue. Gianni Aman parla ben cinque lingue, turco, italiano, tedesco, inglese e durante il primo lockdown per il Covid ha iniziato a studiare anche lo spagnolo, per rispondere personalmente alle fan presenti in terra iberica. Nella versione originale della serie Daydreamer parla in italiano e lo fa interloquendo con il personaggio di Enzo Fabri, imprenditore di Cosmese italiano. Nella versione tradotta in Italia, per esigenze di doppiaggio, a Fabri viene attribuito un accento e l'origine francese. Gianni Aman è lo sport. Il turco è anche appassionato di sport, infatti da bambino ne ha praticati diversi. A livello agonistico, rivelandosi un promettente giocatore di basket. Anche oggi continua a praticarlo non appena un po' di tempo libero. Insieme ad altre attività sportive come la boxe e la ginnastica. Le iniziative solidali. L'attore è noto anche perché riesce a coinvolgere i suoi fan in tutto quello che fa. Come le sue iniziative solidali. A tal proposito è famosa la vendita all'asta del suo gilet con le ali. Disegnato a mano dallo stilista Elker Bilgi. E indossato proprio dall'attore in una delle sue ospitate in una nota trasmissione italiana. Il ricavato è stato devoluto a favore della raccolta fondi per sostenere le cure del piccolo Pamir Pechin. Un bambino affetto da una grave malattia. In Italia l'attore ha anche fondato la Gianni Aman for Children. Un'organizzazione no profit che sostiene le iniziative. A favore dei bambini del reparto di pediatria del Policlinico Umberto Primo di Roma. Sveglia presto e colazione a casa. Su Gianni Aman, inoltre, si sa che odia svegliarsi presto. La mattina per circa un'ora deve stare tranquillo. Non parlare con nessuno e fare colazione a modo suo. Il primo pasto della giornata dell'attore è ricco di dolce e salato innaffiato con litri di caffè. Non gli piace affatto fare colazione fuori casa. Il primo pasto della giornata dell'attore è ricco di dolce e salato innaffiato con litri di caffè. Il primo pasto della giornata dell'attore è ricco di dolce e salato innaffiato con litri di caffè.